a volte mi dicono che sono fortunato perché a me non manipola mai nessuno e io dico ma beh sono contento di essere così tanto fortunato nei rapporti nelle relazioni che siano nuovi che siano perdurati eccetera io tutte queste manipolazioni non le subisco anzi non ne subisco niente anzi a volte devo stare attento a non manipolare io perché magari applico delle cose in automatico però ci sta attento e quindi è risolto il problema quindi perché le persone quasi sempre hanno grandi problemi nei rapporti nelle relazioni nello scegliere un nuovo partner ma anche per fare tra l'altro un rapporto di amicizia di tromba amicizia di solo sesso oppure una relazione come come si dice solitamente seria che per me le relazioni quando siamo d'accordo sono tutte serie perché c'è tutta questa manipolazione tutti questi problemi tutte queste cose i motivi sono tantissimi ma uno dei motivi che possiamo diciamo così aggredire per risolverlo è il seguente che voi non utilizzate l'approccio della botte d'acciaio della botte di ferro chiamatela come volete e ora ve la spiego perché questo può risolvere tanti problemi secondo me risolve come minimo i maggiori allora le persone si suddividono in due categorie persone che sono già in un certo tipo di rapporto relazione sentimentale sessuale tromba amicizia solo tromba o qualsiasi altra cosa ma anche di amicizia tra l'altro e persone che sono in procinto di o in futuro avranno delle relazioni quindi sono diciamo così attivamente o passivamente alla ricerca di un rapporto di una relazione perché salvo che non abbiate 90 anni o sette anni è difficile che voi pensiate di non avere mai più relazioni sentimentali sessuali queste cose qua in quel caso non vi interessa questo video salvo che però queste cose si possono utilizzare anche nei rapporti di amicizia nei rapporti tra l'altro spesso lavorativi spesso non sempre eccetera quindi come dicevo anche se voi non siete interessati ad avere relazioni di alcun tipo sentimentali sessuali eccetera o non siete in una relazione sentimentale sessuale tromba amicizia e qualsiasi altra cosa questa roba la potete utilizzare nelle diciamo così situazioni sociali cioè non è che state dentro una scatola nel deserto ok quindi andiamo a vedere questa cosa che secondo me risolve la maggior parte dei problemi e che io faccio e la maggior parte di voi la stragrandissima maggioranza di voi non fa è il principio questo qua io imposto delle regole che sono le mie regole poi ora vi dico altre cose su questo datemi un attimo e queste regole prevedono che io alcune cose le faccio perché le voglio fare e quindi le faccio alcune cose non le faccio perché non le voglio fare e quindi non le faccio alcune cose le accetto perché le voglio accettare e quindi le accetto altre cose non le accetto perché non le voglio accettare e quindi non le accetto queste regole queste norme per avere a fare con me stanno in una botte di ferro prendiamo questa botte di ferro la chiudiamo e la saldiamo poi ci sono delle calibrazioni delle flessibilità eventuali delle eventuali piccole eccezioni ma per accedere a queste eccezioni cioè io posso fare un'eccezione posso essere più flessibile su qualcosa posso per una volta diciamo così lasciar stare qualcosa però per accedere a queste eccezioni tu devi bussare alla botte e dire ehi possiamo un attimo parlare discutere di questa cosa qui ci accordiamo un attimo mi fai capire un attimo come si potrebbe fare per metterci d'accordo io di saldo apro questa botte modifichiamo qualcosa poi la richiudiamo e la risaldiamo questo che significa metafora a parte significa che se io alcune cose le faccio e continua a farle alcune cose non le faccio e non le farò mai alcune cose le accetto altre non le accetto eccetera c'è poi ovviamente con una persona che mi interessa sottolineo e se la cosa ovviamente è ricambiata c'è una diciamo così un accesso al dialogo possiamo modificare qualcosa però ci deve essere appunto come ho detto un dialogo ci deve essere uno scegliere di modificare alcune cose tipo io il weekend solitamente esco con i miei amici perché stiamo facendo un progetto di business prima andiamo a giocare a ping pong calcetto padel tennis salto in alto salto in basso qualsiasi altra cosa questo lo faccio da dieci anni quindi anche se ho una relazione insomma questo tipo di struttura non la voglio cambiare ovviamente non è che parto il sabato mattina e torno la domenica sera perché nel weekend in un rapporto di qualsiasi tipo è anche giusto fare delle cose insieme però questo è un esempio anche abbastanza estremo però va bene parliamone ora sono entrato in relazione con te facciamo un weekend qui e un weekend lì cioè che un weekend seguo il mio progetto con queste persone lavorativo o qualsiasi altra cosa e l'altro weekend sto sempre soltanto con te oppure alterniamo giorni no ok oppure ogni tanto io decido di diciamo così i weekend li passo con te sto con te e un weekend ogni tre ogni tanto il primo del mese cioè adesso da da decidere mi dedico a quel progetto magari magari tutto il weekend ecco questo è un esempio o qualsiasi altra cosa se ne parla se invece l'altra persona inizia a pretendere cose inizia a volere delle cose inizia a andare in escandescenza oppure a fare i giochetti il muso e la ripicca e tutta questa roba perché vuole modificare delle cose che voglio fare o vuol farmi accettare cose che non voglio accettare stiamo fuori dalla botte di ferro questo non entrerà mai a farmi cambiare le mie regole quello che ho deciso e non ho deciso di fare ho deciso di non fare perché stanno saldate all'interno della botte di ferro e quindi se tu vuoi cambiare le mie regole quello che ho deciso per me per la mia vita che ti ho comunicato ti ho fatto capire all'inizio della creazione del rapporto allora non andiamo d'accordo e quindi per me poi tornare per la via in cui è ridirezionato o direzionata precedentemente troverò qualcun altro in questo modo risparmio dei problemi delle aspirazioni o progetti poi traditi è un sacco di rotture di palle un sacco di litigi un sacco di manipolazioni perché poi tu mi fai questo poi io mi incazzo poi qui poi qua insomma tutta questa roba qui patti chiari relazione lunga ok come si dice no patti chiari amicizia lunga però anche amicizia relazionale insomma rapporto relazionale lungo ovviamente anche l'altra persona mi farà capire cosa vuole cosa non vuole cosa accetta cosa non accetta quali sono i suoi piani qual è il suo tipo di interesse nel tipo di rapporto con me e poi ci accordiamo siamo persone civili persone spero strong persone comprensive persone che appunto vogliono stare in un certo rapporto con l'altra persona ok quindi non è che siamo nazisti o roba simile estremisti siamo estremisti nel dire io voglio queste cose e le voglio fare relazione o non relazione queste altre cose non le voglio fare relazione o non relazione ok ad esempio io non vado mai mai ad alcuna diciamo così tra virgolette festa o celebrazione religiosa battesimi matrimoni comunioni cresime e qualsiasi altra roba perché sarei totalmente ipocrita per me sono una filata di stronzate quelle cose lì la celebrazione religiosa perché non sono cattolico religioso cioè io sono agnostico cioè non ho alcuna fede religiosa nemmeno sono ateo ok cioè per me quello che c'è dopo non mi interessa io vivo al meglio di qua e poi di là prenderò atto se ci sarà qualcosa non mi pongo minimamente il problema ok so che ci può essere tutto come non ci può essere niente quindi chiuso il discorso io se ho una relazione e questa mia partner è di qualsiasi tipo mi dice a sai c'è mia sorella che fa il matrimonio c'è mia nipote la figlia di mia sorella o qualsiasi altra roba che fa il il battesimo a me non me ne frega una straminchia di niente io non partecipo minimamente se poi fanno una specie di rinfresco privato in casa così magari posso andare cioè non è che sto fuori dal mondo però io non partecipo a celebrazioni stupide religiose stupide per me poi rispetto ogni credo e ogni ideologia quindi quella è una cosa che io non farò mai ci deve essere deve cadere proprio il mondo ma lì se ne parla dici guarda c'è questa situazione in questa cosa vedi se puoi fare un'eccezione io poi decido ma se tu inizi a farmi pressioni questo è solo un esempio per spiegarne altri mille se tu inizia farmi pressioni è ma qui è ma allora qui e allora io non faccio questo e allora la sopra e sotto per me puoi andare a fanculo nell'infinito del chi se ne frega di te ok perché non mi stai rispettando quando voi impostate le vostre regole le mettete in una botte di ferro modificabili soltanto aprendo questa botte ossia la persona vi deve dire guarda possiamo parlare un attimo di questo allora voi risolvete quasi tutti i problemi di manipolazioni i trucchetti i raggiri le pressioni i colpi di coda le ambiguità stupide o manipolatorie le coercizioni una marea di problemi le incomprensioni insomma è vivete nell'eden per usare questa metafora qua relazionale io sono così voglio questo questo non lo voglio quindi faccio quello che voglio e non faccio quello che non voglio accetto non accetto alcune cose il mio progetto è questo e quest'altro non è il mio progetto e quindi siamo d'accordo ti può piacere o non ti può piacere mica ti obbligo ad accettare o a non accettare io sono fatto così voglio non voglio accetto non accetto progetto non progetto fine è finito il discorso poi se questa roba non ti piace ma nessuno vaffanculo ti ha detto che sei obbligato obbligata a interagire con me questo vale nelle amicizie nei rapporti sociali rapporti lavorativi in qualsiasi altra cosa ok cioè quindi quando voi fate questo sempre con una possibilità di dialogo allora voi entrate nel sacro graal o sacro eden delle persone della vita strong ok poi ripeto delle eccezioni si possono fare le potete fare perché sennò sareste soltanto dei ciechi sordomuti delle persone asettiche però ci deve essere un accordo ok cioè non che voi cambiate le vostre regole aspirazioni progetti cosa accettate no così perché l'altra persona mi fare le pressioni vi fa qui vi fa qua se mi fare le pressioni ti mando affanculo non ci sono eccezioni te lo dico ti avverto se continui allora siamo già in semaforo rosso alla prossima ti mando affanculo e questo va fatto prima possibile all'inizio del rapporto della relazione dell'interazione perché poi se no troppo tardi quando avete costruito già dei progetti è passato tanto tempo vi siete affezionati o innamorati molto o qualsiasi tipo di rapporto progetto gruppo di amici interessi iniziative roba lavorativa aziende eccetera eccetera è andato avanti ci avete investito tempo vi siete incastrati tutto il resto anche incastrati in modo positivo poi impostare delle regole dopo a scoppio ritardato è complicato anche perché la persona potrebbe dire guarda sta cazzo di cosa non me l'avevi detta se la sapevo prima ti mandavo affanculo io dovete dare anche la possibilità alla persona di essere libera di decidere se per quella persona andate bene e ovviamente dovete anche valutare se le regole le aspirazioni cosa accettano eccetera eccetera dell'altra persona a voi stanno bene non che voi impostate solo le vostre perché la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altra persona se io voglio una libertà totale e non voglio rispettare l'inizio della libertà dell'altra persona vuol dire che non devo stare con quella persona ma nemmeno come amicizia nemmeno come quasi vicini di casa cioè adesso per dire ok quindi impostate questo sistema di qua i cappelli mi fanno prurito impostate questo sistema mettete le vostre regole aspirazioni cosa accettate non accettate dentro dentro una botte di ferro e non cambiatele mai salvo che la persona vi chieda insomma di parlarne e poi in caso decidete senza obblighi e questo migliorerà la stragrandissima maggioranza dei problemi maggiori che ci sono in ogni tipo di rapporto ok sono sicuro che questa cosa vi cambierà la vita almeno in questo aspetto e poi se voi volete diventare totalmente strong c'è il c'è il mio video corso strong revolution e per le relazioni per creare attrazione interesse seduzione c'è il mio corso strong attraction trovate tutto in descrizione e ora vi consiglio altri video qua sopra che vi linko anche in descrizione ciao da Alex Sonofri siate sempre strong vi abbraccio al prossimo video ciao